Diabetico e ipocondriaco, Renato Belisari viveva nel terrore dei malori, del dolore, della sofferenza. Abitava da solo, non sposato e senza figli. Diffidente come pochi, riferiscono parenti, amici e vicini di casa, ma una persona assolutamente tranquilla e socievole, amante del buon cibo e della compagnia. Renato Belisari era rientrato da pochi giorni da una vacanza a Tortoreto, al mare, come era solito fare ormai da diversi anni, da quando era in pensione ed era tornato. Mercoledì, il rientro a Intermesoli, dove viveva da solo, in questa casetta in pieno centro. Giovedì, la sua morte. Ma tutta Intermesoli non ci crede, non crede per diverse ore all'ipotesi dell'omicidio. Incredulità e sgomento si leggono sui volti di chi abita in questa frazione di Pietracamela, dove tutti conoscono tutti e tutti conoscono tutto di tutti. È una persona tranquilla, pacifica, non ha nessun problema, né avuti né dati mai a nessuno. È un problema che crea sconcerto nella popolazione, gente tranquilla che non è abituata a casi, di una certa gravità. Potrebbe essere qualcuno che si è introdotto in casa con la speranza di trovare qualcosa. Ci crediamo poco perché speriamo che non dipenda da motivi di questo genere. Corrado Belisari, cugino di secondo grado della vittima, è stato fino a pochi mesi fa il cesindaco di Pietracamela. È stata sua madre, vicina di casa della vittima, a chiedere che qualcuno entrasse in casa, andasse a controllare. Magari Renato si è sentito male, ripeteva la donna. E invece i vigili del fuoco hanno svelato la tragedia. E nonostante l'evidenza di una morte violenta, per ore i residenti di Intermesoli hanno sostenuto la tesi che si fosse trattato di una caduta in casa a seguito di un malore. Immaginando che Renato Belisari si sia sentito male e sia caduto con tutta la sua mole sbattendo il capo contro il lavello in marmo in cucina. E invece no, Renato Belisari è stato ucciso e il suo ne ho sfondato. Parla più di ogni supposizione.